Credo che questi eventi siano molto utili in ottica di sensibilizzazione, penso che perché funzionino bene è necessario che ci siano varie voci che vengono intorno al tavolo, voci anche divergenti in modo da rappresentare in modo adeguato il diverso panorama delle criticità che ci sono e anche dei lati positivi che ci sono rispetto a quello che è l'innovazione su cui tutti, tecnologi, giuristi, politici, decisori, dobbiamo interrogarci.